FIAT FIAT 1 The Parkside of the Moon Ci cantano Bruno 3, 2, 1 Bruno No, non è nessuno Tranne quando guida la sua uno Blu, cilindrata mille, motore fire del 1991 L'ultimo della provincia di Belluno Bruno Si sente qualcuno Quando il limite di ottante va a ottantuno Ma la sua gioia è in corsia ristretta Perché in strada c'è una bicicletta Bruno ama gli animali Ma odia gli uomini sui pedali Bruno forse ha pochi amici Ma di certo non è gente in bici Ma Bruno ama la sua vita Quando approccia una salita E c'è un ciclista che fa fatica Lui lo sorpassa E gli dice Succa Bruno ha rotto la 1 Ed i pezzi di ricambio arrivano il 31 Tu no, e oggi è l'uno Ma il meccanico gli dice Aspetta, ho la soluzione perfetta Ed al retro torna con una bicicletta Tu no, tu non puoi farmi questo Nanni Dopo anni e anni di taglianti Della 1 Volevo un'auto di cortesia Non questo atto di scortesia Bruno cerca di capire Ma per legge io devo impedire Il mezzo di sostituzione Deve avere lo stesso valore Dai Bruno smetti di gridare Se poi vogliamo sindacare Almeno un deca me lo dovresti dare E ora mi spiace Bruno è il tempo Di pedalare Il mezzo di un'auto di un'auto di un'auto di un'auto Va beh Cesareo Che ci hai sentito in questo brano? Che dire Mi sarei aspettato sul finale un altro Succa! Mancava E invece? Mancava E invece? Mancava Però molto bravi Io penso che questo pezzo potrebbe diventare un grande successo È vero Addirittura Addirittura È quello che cerchiamo qui ai Fan Cool Music Awards Però Vediamo Roy che ci dici? A me è piaciuto È piaciuto molto l'entusiasmo di Cesare Direi quasi Bruno Sei pronto per il Fan Cool Ebbene Sono bravi Sono bravi Bravissimi Sono bravi tutti Bravi 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 Paola Paola Mi piacciono Mi piacciono Senza remissione di peccato Anche perché devo dire che L'apertura C'è quasi del romantico C'è della melodia insieme a questo Mi piacciono moltissimo Non lo sapeva neanche lui tra l'altro Non aveva idea Corrado? Dirò qualcosa di poetico L'arte di un cretino sta nel raccontare l'invisibile nei minimi particolari Loro l'hanno fatto The Pax Sight of the Moon Grazie Vabbè è facile Andiamo avanti con l'appello dell'ottavo finalista